70 anni di una testata giornalistica per la Sicilia sono certamente importanti, la presidenza del Capo dello Stato serve a porre l'accento sulla strategia che la comunicazione, la buona comunicazione, quella professionale e quella autonoma, servono a una terra come la nostra proiettata nel Mediterraneo, soprattutto alla vigilia di una guerra così densa di incertezze.